bentornati sul mio canale dunque qui a bari stiamo davvero raggiungendo temperature elevatissime infatti vi vedrete certamente sudare e magari bere un po d'acqua mentre sto realizzando il video fra l'altro vi invito da questo punto di vista a recuperare i contenuti che ho realizzato sui condizionatori dedicati ai condizionatori perché insomma in questo periodo vi potranno tornare particolarmente utili in ogni caso ho realizzato questo video rispetto ad un argomento che mi ha colpito particolarmente e insomma ha iniziato ad occuparsene un po anche la stampa generalista e sto parlando della carenza dei cavi per quanto riguarda la fibra ottica è una carenza che sta riguardando soprattutto cina india ed europa ed è una carenza legata al fatto che fondamentalmente non si sta riuscendo come dire a produrre la quantità di cavi richiesta dal mercato un aspetto che peraltro ha fatto aumentare di quasi il 70 per cento il prezzo al chilometro di questi cavi cavi che ovviamente come potete immaginare ormai vengono impiegati in tantissimi ambiti e che chiaramente sono diventati particolarmente cruciali per tantissime attività che svolgiamo tutti i giorni e che ovviamente sono collegate alla rete ma cerchiamo come dire di andare con ordine ora nelle aree che ho citato vale a dire cina india ed europa il prezzo della fibra al chilometro è passato dai minimi storici di 3,70 dollari marzo 2021 quindi dopo circa un annetto di pandemia ai 6,30 dollari attuali insomma un aumento della domanda che chiaramente è stato guidato dalla pandemia durante la quale l'utilizzo di internet è cresciuto e chiaramente c'è stata un'espansione dei data center delle big tech per soddisfare questo aumento di traffico chiaramente a tutto questo si è aggiunto poi si è aggiunta anche l'espansione della rete 5g e della parte della banda ultralarga da parte dei vari governi nazionali che chiaramente ha fatto ulteriormente impennare la domanda a fronte però di una carenza dell'offerta perché ovviamente tutta la parte legata ai centri di produzione continua a soffrire quella che è fondamentalmente l'attuale congiuntura economica che ovviamente va ad unirsi anche al discorso della pandemia che soprattutto in alcuni in alcune zone produttive di fatto non ha ancora allentato la morsa ora la richiesta di cavi nella prima metà del 2022 è cresciuta dell'8,1 per cento rispetto a quella che è stata la prima metà del 2021 e neanche a dirlo a guidare l'incremento di questa domanda è stata la cina con il 46 per cento seguita poi ovviamente anche dal nord america ora il prezzo della fibra ovviamente lievitato anche a causa della carenza di alcuni componenti essenziali per la sua produzione e che alcuni di per alcuni di essi fondamentalmente iniziata circa due anni fa il caso più eclatante probabilmente è quello dell'elio e infatti le interruzioni di alcuni impianti negli stati uniti e in russia hanno di fatto fatto aumentare il suo prezzo del 135 per cento negli ultimi due anni chiaramente soffrono anche i tempi di consegne dei cavi in fibra che chiaramente per molti dei clienti più piccoli sono passati da 20 settimane a quasi un anno quindi insomma una situazione decisamente complessa molto particolare da gestire che chiaramente avrà tutta una serie di ripercussioni in svariati settori nei prossimi mesi è fondamentalmente una situazione molto simile al discorso dei semiconduttori che come abbiamo visto ha chiaramente investito tantissimi settori a cominciare soprattutto da quello dell'automotive chiaramente questo aspetto della fibra ritarderà molto probabilmente anche come dire il cablaggio di tantissime zone all'interno del nostro paese che ancora non sono raggiunte dalla banda ultralarga e ci sono tantissimi comuni a causa anche della morfologia del territorio italiano che come dire purtroppo devono ancora gestire questo gap che onestamente nel 2022 inizia ad essere poco giustificabile resta da capire chiaramente quelle che saranno le tempistiche per risolvere questa problematica tenete presente che in merito c'è stato un reportage del financial times quindi insomma una testata decisamente autorevole che di fatto non è riuscita in qualche modo a dare una prospettiva rispetto a questa carenza di fibra e insomma la sensazione è che probabilmente sarà un qualcosa che ci porteremo dietro per tutto il 2023 con inevitabili conseguenze rispetto come dire a tutti i settori che in qualche modo sono lambiti dalla dalla fibra peraltro insomma dal mio punto di vista credo che questa situazione rappresenti un'ulteriore problematica rispetto al 5g connettività 5g che certamente ha avuto un'espansione molto importante negli ultimi due anni ma che continua ancora a essere un po in ritardo soprattutto sul territorio europeo a causa di una serie di fattori a cominciare anche da quella che è la situazione di huawei che insomma continua ad avere fondamentalmente queste problematiche aperte con il governo degli stati uniti peraltro ci sono anche alcuni aggiornamenti in merito insomma ci sono stati anche nuovi provvedimenti nelle ultime settimane che sono andati a colpire proprio l'infrastruttura di rete di huawei peraltro ho in mente nei prossimi giorni di realizzarvi anche un video per spiegarvi un po quella che è la situazione attuale di huawei quindi fondamentalmente che fine ha fatto huawei visto che ormai di fatto almeno in europa è praticamente uscita dal mercato smartphone per quanto alcuni prodotti ancora continuano ad arrivare e di contro però continua come dire a produrre degli eccellenti computer che devo dire rappresentano un po un punto di riferimento per il settore almeno rispetto al rapporto qualità prezzo però insomma non voglio divagare fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa situazione legata alla fibra e soprattutto rispetto al vostro comune qual è la situazione per la banda ultralarga perché insomma questa situazione contingente potrebbe ulteriormente ritardarne il cablaggio io per questo video concluso e noi ci vediamo nei prossimi giorni